Ebbene carissimi amici ben ritrovati ancora una volta sul mio canale youtube quest'oggi parliamo dei miei software, i miei software che continuano a dare grandissime vincite di estratti, di ambisecchi e soprattutto di terni secchi e oggi voglio sottoporre la vostra attenzione due bellissime vincite di terno secco ottenute da due software di grande investimento che sono terno forza 10 e terno forza 90 già dal nome si capisce tutto, quando esce la spia 10 e quando esce la spia 90 sono dei software che ricavano delle previsioni ristrettissime ricavano due terzine, tutte nazionali, da giocare per massimo 13 colpi e sono dei software che non sono nuovi a queste vincite perché sono software che hanno dato grandi vincite di terni secchi ma quello che è successo nell'estrazione di sabato 16 maggio è incredibile 5 maggio, 5 maggio, sortiva la spia 10 su Genova cosa elaborava il software? due terzine, la 70, 46, 60, 63, 23, 25 andate sul nazionale, prendete l'estrazione e andate a vedere cosa è successo sulla ruota nazionale terno secco non a tutti, su ruota 63, 23, 25, quinto colpo fatti reali cari amici, fatti reali guardate previsione elaborata 5 maggio con la spia questi erano i due terni e questo è il terno secco a ruota ok? grandissima vincita si riparte alla grande con i miei software grandissima vincita terno secco con sole due terzine immaginate quanti terni si vanno ad elaborare con i 90 numeri sono tantissimi con sole due terzine noi andiamo ad ottenere questi risultati ma attenzione perché? perché ha pagato anche l'altro software terno forza 90 terno forza 90 quando esce il 90 su qualsiasi ruota in questo caso la spiera sulla nazionale il 17 marzo cosa è successo? ottavo colpo ottavo colpo ha dato il terno a tutte guardate 14, 10, 62 a Bari lì terno forza 10 era a ruota ma anche questo è bello perché un terno a tutte paga il doppio di un ambo secco a ruota paga più di 400 volte alla posta terno secco 14, 10, 62 a tutte le ruote ottavo colpo quindi cari amici due grandissimi esti che non potevo non documentare da due software pazzeschi software che oltre a dare terni secchi danno ambi in terzina sulla nazionale tantissimi e io vi consiglio l'acquisizione di questi due programmi perché sono veramente veramente forti e ci daranno ancora belle soddisfazioni di terni secchi perché queste sono solo le ultime vince di una lunga serie tante volte ho fatto video sul mio canale riguardo questi software con dei terni secchi vinti bellissimo questo terno sulla nazionale al quinto colpo è un terno a ruota sapete benissimo quanto paga quindi cari amici io vi lascio i link in descrizione per scaricarvi i programmi contattatemi all'indirizzo email che vi metto in descrizione per avere informazioni su come acquisire su come avere il codice di attivazione per questi programmi contattatemi anche per conoscere la grande promozione per avere tutti i miei software in un unico pacchetto promozionale speriamo di continuare ad ottenere queste bellissime vincite e per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto grazie a tutti